Dal Vesfale Stadion di Dortmund La partita dello Yorghi All'appuntamento con la storia, buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi Mado subito un bel pollice in su, paracadute sulle spalle, e let's go! In top 3, let's go, let's go Let's go, let's go, in doccia spuglio, a 3 kill, attenzione erano tutti a 3 bottoni ma molto forti Attenzione, Ilfonsi si appresta Dietro un albero incredibile, Ilfonsi Vede un tipo? Rimangono in due? Ilfonsi? Che addirittura potrebbe scampare e potrebbe vincerlo Incredibile nascondiglio Albero fenomenale Ilfonsi Mamma mia, incredibile Nascondiglio fenomenale Ilfonsi L'avversario nel frattempo si appresta ad avvicinarsi e a cercare Ilfonsi Con un lanciabrazi poco simpatico in mano Ilfonsi 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 Incredibile rischia di prendersi un razzo nei denti Incredibile costruzione delfonsi La builda La builda Pro building Qui abbiamo il nuovo Cosa fa Ilfonsi Cosa fa Ilfonsi? Attenzione, Ilfonsi Incredibile Era fermissimo Grande Yorkie The Yorkies on the table The Yorkies on the table Incredibile allo Staples Center Tracy McGrady Spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento A vostro Diomattone Diomattone